Educare alla prevenzione contro i tumori e alimentare il volontariato che si prende cura dei malati oncologici. È l'impegno e la missione della Lega Italiana per la lotta contro i tumori, sottolineato da Papa Francesco nell'incontro con 150 membri dell'Associazione. La prevenzione oncologica, ha auspicato il Papa, deve essere stesa a tutti in una società sempre più inclusiva. C'è tanto bisogno di diffondere una cultura della vita fatta di atteggiamenti, di comportamenti. Una vera cultura popolare, seria, accessibile a tutti e non basata su interessi commerciali. Più in particolare, le famiglie hanno bisogno di essere accompagnate in un cammino di prevenzione, un cammino che coinvolge le diverse generazioni in un patto solidale, un cammino che valorizza l'esperienza di chi ha vissuto insieme ai propri familiari il faticoso percorso della patologia oncologica. Accanto all'opera di prevenzione, fondamentale è l'assistenza ai malati e alle loro famiglie, un servizio alla periferia, ha ricordato Francesco, perché periferie ogni persona costretta ai margini della società e delle relazioni, quando la malattia ne infrange i ritmi consueti. Il prendersi cura delle persone malate è una ricchezza inestimabile per la società, ricorda alla comunità civile ed ecclesiale di non aver paura della prossimità, non aver paura della tenerezza, non aver paura di perdere tempo con legami che offrano e accolgano sostegno e conforto reciproco, spazi di solidarietà autentici e non formali. Il prendersi cura delle persone malate è una ricchezza, e non aver paura della società, non aver paura di perdere tempo con legami,